I'd like to make myself believe, that planet earth turns slowly, start to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, cause everything is never as you see Ok Neee, belle raga qui, è tornato Alfie Game, e sono in compagnia con Getsuo E siamo qua come potete vedere su Black Ops 2, in particolare Ride, veterano, uccisione confermata, perché mi ho deciso, diciamo, veterano Chissà quante persone giocano in veterano, e chissà quanti gameplay ci sono su YouTube di veterano E noi volevamo alimentare appunto quei gameplay che sono fatti in veterano, che richiedono una certa abilità Più che abilità si tratta anche di fortuna, perché devi stare attento a non beccare l'alleato, a beccare quello giusto A non fare fuoco amico Certo, perché se fai fuoco amico, vieni chiccato pesantemente Ecco, no, pesantemente, non puoi entrare in quella partita, basta, però Ti lo so, però dopo un tot di kick, praticamente ti bannano per non so quanto tempo, ma questione tipo di minuti Perché ti dicono, praticamente, l'altra volta a me mi è capitato, perché ovviamente la fortuna che ho io Ma non perché io li cerco di pigliare apposto i alleati, perché mi passavano davanti mentre io sparavo furbamente E mi è spuntato la scritta tipo Ci sono arrivati, non mi ricordo, eccessivi servizi Cioè, eccessivi tipo notifiche, eccessive notifiche, tipo una cosa del genere Che facevi tipo fuoco amico, tipo cose del genere E mi viettava l'accesso a veterano per questione di qualche minuto Ecco, perché hanno i server per tenere i conti di quante volte sei stato chiccato, però non hanno i server per ostare le partite Mi sembra una cosa davvero giusta Allora Certo Ehm... qua, eh, sto andando piuttosto bene, dai Non mi posso lamentare Ecco, non mi posso lamentare, sono morto Lol Ecce, c'è... c'è... Vabbè, ce l'ho aperto Ehm... ah! Sto per muro, sto per muro, perché ho lanciato la granata Allora, nasconditi muro Vorrei lanciare sto wow, 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 wii Però... no, perché c'è già in campo E quindi... C'è nessuno, lì Vabbè, pensavo che ero alleato, perché c'aveva il nome verde sopra Vabbè, provi, rispondiamo Vabbè, questa è buona Qua faccio un borto di kill Manca una, signori Manca una Vabbè, c'era una... ho lanciato una granata in un posto dove mi diceva tutti i punti rossi Ho detto, miglia, questa volta è buona che faccio un triccozzo Invece proprio niente Vabbè, ho fatto una doppia di alleati Cioè, da morto Mi hai ucciso me, hai ucciso me e ho ucciso l'altro Da morto pure, da morto, cioè Cioè, cos'è... i trick di Alfie sono epici, solo lui può fare queste cose Tu muori Nel giardino zen Insieme a Panino The Kickmaster Che non c'è perché... avevamo già registrato ma ne è venuto registrato Solite inconvenienti Tu muori, perfetto Qua cos'è... tutti fumati Ah, ma comunque noi siamo in minoranza Eh... come... player Perfetto Tanto per gradire Però stiamo vincendo Ecco, uccisione negata E poi sono morto Quindi sembra molto logico Il ragionamento logico L'ho sposto Ouch, però Da Mmm... Beh, ci chiama basket No Woo, no Al fine di direi di stare Minchia, quasi Quasi Proprio questo giocatore nato Un giocatore baschettato Muori Eh, è morto Bravo lui che... uccisione negata, uccisione negata Uccisione negata Uccisione negata, negata confermata Negata, negata e confermata Perfetto Dragonfire Perfetto Cioè, ma è mai possibile che le cose le devo sentire dalla tua televisione e non dalla mia? Oh, eh, io te l'avevo detto prima Non abbassare, non abbassare perché così... Sento... No, gli approvvigioramenti! Dove? Ah, li ho trovati! No! Te l'hanno fregato, mi dispiace Cioè, erano pure buoni Quell'interista di mordo Eeeh Ho scritto un minuto, un interista Ho scritto un minuto, lo sai che Emma ti uccide, vero? Perché? Vabbè, Gigi... Eeeh, come perché? E' interista quello, lui, quindi Eh, vabbè, ma che cazzo? Mi, mi, mi fotte gli approvvigionamenti Mamma mia, che tripla Mamma mia, che tripla Ma, 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 ma Non laggare, non laggare Vedi, ti sei saltato troppo Vabbè, però Vai, vai Oh, fuoco di copertura, vieni qua Biondo Che pallozza Tu ancora mi devi un approvvigionamento Eh, dettaglio A parte che te li ho salvati Tu cazzo Eh, cati Eh, pio Olè, questa qua Guarda, te la metto in un punto proprio Te la metto In acqua, magari In un punto, vai Oh, laggato Ma se ti levi dalla porta, però Vai Spara Eh, spara E intanto difendo qua la torretta pure In modo che non me la inchiappettino da dietro Anzi, non faccio il raccattavo Cose qua Oh, merda Torretta, please Cos'è il nemico che arriva? Oh Perfetto Qualcosa di nemico Cosa cavolo stai giocando tu? Self duty Perfetto Tu? Eh, League of Legends Non me ne poteva venire uno meglio Vabbè, fai niente Dezai Minecraft, allora Ecco Qua ce ne ne ciò Spariamo a Gates Non ce ne ciò Ah, c***o De schifo Eh, figlio del puto Perfetto Ah, perché mi sono disabili Dimenticato di Levare sti schifosi qua Ma è cosa? Eh, gente Ah, non li avevi mutati? No, non li avevo mutati Eh, ti ha detto qui Via di puta Eh, non lo so Non ce l'aveva con me Perché alleate sono, quindi Ah, ok Però l'ha detto Perfetto Anche il puta partecipano a sta partita Mi fa piacere Più o meno Qua ce ne ciò Ale, abbiamo vinto Finale di merda Vabbè Vabbè, abbiamo vinto però Vabbè, volevo fare io qualche roba Invece no Era a zonzo Vediamo che asso ha fatto il nostro aleato Lagato Perfetto Premio Premio Guarda tutto Fatto Strafato Due colpi Due colpi Due Due contati Due proprio Due Si è bloccato No, non si è bloccato Tranquillo Ok Ehm, vabbè Questa è una partita Questa è la grande ritorno Ci vediamo con altri prossimi video Con altri prossimi video Con molti altri video Ehm, che faremo tutti noi Si spera Quindi da Alfigame E' ghezzo E' tutto Ehm, ciao a tutti Ciao Stoppati Stoppati Non si stoppa Perfetto Ciao a tutti